Se vuoi un bel romanzo di sogni e di draghi, lo cerchi, lo trovi e lo paghi. Se vai in biblioteca c'è libero accesso, ma il libro lo paghi lo stesso. Secondo una direttiva europea, gli autori godono di un diritto di prestito esclusivo, che significa che hanno la facoltà di autorizzare o vietare il prestito pubblico delle loro opere. E per il prestito bibliotecario hanno il diritto ad una remunerazione. La direttiva è stata accettata da tutti i paesi europei. La discussione, se c'è mai stata, è chiusa. Ad ogni singolo Stato rimane solo la possibilità di scegliere chi, come e quanto dovrà pagare. Dopo la condanna della Corte di Giustizia europea, l'Italia ha deciso di stanziare un fondo per compensare gli autori per il prestito bibliotecario, fondo che sarà gestito dalla SIAE. Dunque, per i libri che prendiamo in prestito nelle biblioteche pubbliche, da quest'anno lo Stato italiano, cioè noi, paga 3 milioni di euro. Ma sono in molte a non essere d'accordo, biblioteche e lettori, ma anche molti autori, e non contestano solo la decisione del governo italiano, ma la logica della direttiva. Ma partiamo dall'inizio. Nel 1992, con lo scopo di armonizzare le diverse legislazioni, la Comunità europea approva all'unanimità una direttiva che obbliga gli Stati membri a introdurre il diritto di prestito esclusivo. La logica di questo diritto è che se qualcuno prende in prestito un libro, beneficia gratuitamente del lavoro di un autore. Dunque, la legge riconosce all'autore il diritto di decidere se la sua opera può essere data in prestito e a quali condizioni. Chiaramente una tale misura da sola renderebbe la vita impossibile alle biblioteche, che dovrebbero richiedere ad ogni singolo autore il permesso di prestare le sue opere. Allora la direttiva dà il permesso agli Stati di derogare a tale diritto esclusivo, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito, che detto in un altro modo significa che lo Stato può permettere alle biblioteche di prestare libri senza richiedere un'autorizzazione, ma per questo gli autori devono essere comunque risarciti. La direttiva impone la remunerazione degli autori, ma non dice chi deve pagare e quanto. Decisioni che vengono lasciate ad ogni singolo Stato. Ma dato che chi ha fatto la direttiva si rende perlomeno conto che questo diritto di prestito pubblico rischia di trasformarsi in un divieto di prestito pubblico, introduce anche una piccola clausola da usare con moderazione. La direttiva permette ad ogni singolo Stato di esentare alcune, solo alcune, istituzioni dal versamento della remunerazione. In parole povere, uno Stato può decidere di permettere, ad esempio alle biblioteche scolastiche, di dare in prestito dei libri senza pagare niente all'autore. Cerchiamo di semplificare al massimo e riassumiamo i tre passaggi. 1. Agli autori viene concesso il diritto esclusivo di scegliere se e come concedere il prestito pubblico. 2. Lo Stato può togliere agli autori questo diritto esclusivo a favore delle biblioteche, ma solo in cambio di una remunerazione. 3. Alcune istituzioni pubbliche, e ripeto, solo alcune, possono essere esentate dalla remunerazione. Tutti i paesi della comunità europea dovevano adeguarsi alla direttiva entro il 1 luglio 1994. In Italia, con un piccolo ritardo tollerabile, il diritto di prestito pubblico viene introdotto il 16 novembre 1994. E la Commissione è contenta perché, in Italia, paese nel quale non vera alcun diritto di prestito pubblico prima della direttiva, è stato introdotto un diritto esclusivo di prestito per gli autori e gli esecutori interpreti. E la remunerazione? La Commissione non si rende conto che gli italiani hanno trovato un astuto modo per lasciare tutto come prima. Infatti, oltre all'articolo 18 bis, viene introdotto anche l'articolo 69, che di fatto esenta non alcune, ma tutte le biblioteche pubbliche, non solo dal dover richiedere l'autorizzazione, ma anche dal pagamento della remunerazione. Solo nel settembre 2002, otto anni dopo, la Commissione si sveglia e controlla come ogni singolo Stato ha ricepito la direttiva. E dell'anomalia italiana se ne rende conto subito. Se uno Stato membro esonerasse tutte le biblioteche pubbliche dal pagamento della remunerazione, esso escluderebbe la maggior parte degli istituti di prestito dall'applicazione del diritto di prestito pubblico. Una situazione del genere sarebbe contraria alle intenzioni del legislatore comunitario. In parole povere, l'Italia ha interpretato un po' troppo liberamente la direttiva e dunque non l'ha rispettata. Gli uffici della Commissione richiedono all'Italia informazioni relativamente al ricepimento della direttiva. Le autorità italiane, sei mesi dopo, richiedono un mese per rispondere. La Commissione accoglie tale richiesta. Non ricevendo alcuna risposta, la Commissione invia alla Repubblica Italiana una lettera di diffida. La Commissione europea avvia un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia e di Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo. La Commissione fa sul serio. Se i paesi non si mettono in regola, rischiano delle multe salatissime. La reazione all'apertura della procedura è immediata. In Spagna, il Paese pubblica la lettera di 32 bibliotecari contraria all'introduzione del prestito a pagamento nelle biblioteche spagnole. In Italia, la protesta parte dalla biblioteca di Cologno Monzese e dall'Associazione Bibliaria, che si mettono subito in contatto con i colleghi spagnoli. Si innesca una reazione a catena incredibile per rivendicare la gratuità del prestito. Con il patrocinio dell'Associazione Italiana Biblioteche, il 21 febbraio a Cologno Monzese si tiene una giornata di discussione in collegamento con il convegno spagnolo a Guadalajara. Parte così la campagna denominata Non pago di leggere e inizia la raccolta firme per il manifesto contro l'introduzione del prestito a pagamento e la raccolta per l'appello al commissario europeo dell'epoca, Romano Prodi. Signor Presidente, ci rivolgiamo a lei perché la Commissione non assume in materia una visione ottusamente burocratica. Non sappiamo a quale idea di Europa risponda l'intenzione di introdurre il pagamento di una tariffa per il servizio di prestito. Certo, non ha un'idea di Europa della libertà e della promozione culturale. La prospettiva che più spaventa è la possibile introduzione di un ticket sul prestito a carico del lettore o della biblioteca. Ma in ogni caso questo ticket avrebbe una conseguenza nefasta sulle già risicate finanze delle biblioteche italiane con conseguenze disastrose per la promozione della cultura. Le biblioteche sono fondamentali per lo sviluppo e il mantenimento di una società democratica. Garantiscono ai cittadini l'accesso libero e senza limiti, anche ai meno abbienti, alla cultura, alla scienza e l'educazione, essenziali per la democrazia. Invogliano soprattutto i giovani alla lettura. Assicurano la diffusione, la conservazione e l'accessibilità delle opere di tutti i tipi e non lo fanno a scopo di lucro. Ma chi è a favore della direttiva? Qualcuno a favore c'è, anche se non è facile trovarlo. Ivan Cecchini, consigliere di amministrazione della SIAE e direttore dell'Associazione Italiana Editori. Esiste una legge europea e l'Italia non può rifiutarsi di applicarla. D'altra parte soltanto per quanto riguarda i libri si pensa ad un'utilizzazione gratuita. Alessandro Occhipinti, del Sindacato Nazionale Scrittori. È indispensabile che l'utente sia preservato, ma il diritto a leggere non deve ricadere sul diritto degli autori. Occorre infatti ricordare che molti scrittori vivono del diritto d'autore. Intanto in Parlamento arriva un disegno di legge che propone l'introduzione di un ticket di 50 centesimo a libro. A carico del lettore. I soldi, però, dovrebbero restare su un fondo gestito da ogni singola biblioteca, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di nuovi libri. Quindi un pagamento indiretto del diritto d'autore, per autori ed editori, che però incrementerebbe il patrimonio librario. Le categorie meno abbienti verrebbero isentate dal pagamento del ticket. Lo stesso giorno, alla Camera, un'interrogazione chiede al Governo di opporsi all'introduzione di questo ticket. Pochi giorni dopo, al Senato, un'altra interrogazione chiede al Governo di attivarsi anche a livello europeo, per correggere la direttiva. Il 24 marzo 2004, le autorità italiane inviano una mail alla Commissione per una richiesta di informazioni supplementari. Il 23 di aprile, giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, proclamata dall'UNESCO, viene dedicata dai bibliotecari italiani e spagnoli al tema del prestito a pagamento. Si organizzano iniziative e campagne di sensibilizzazione in molte biblioteche. Intanto in Spagna i bibliotecari realizzano una catena umana che circonda la Biblioteca Nazionale a Madrid. Il 13 maggio, nuova interrogazione al Senato. Il Governo intervenga presso la Commissione europea, in considerazione anche del fatto che l'Italia è uno dei paesi europei con la percentuale di lettori più bassa d'Europa. Il 1 luglio, alla quarta interrogazione, il Governo spiega che l'Italia non potrà evitare di adeguarsi alla direttiva europea, ma sta cercando una soluzione che non gravi sull'utente finale e sulle biblioteche. Il problema però è evidente, è dove reperire i soldi e anche le regioni sono candidate a contribuire. La Commissione dà l'Italia due mesi di tempo per mettersi in regola. Due mesi dopo, il Governo italiano promette che in un prossimo futuro si metterà in regola. Intanto più di 38.000 firme all'appello vengono recapitate al Presidente della Commissione europea, alle quali si aggiungono diverse interrogazioni di eurodeputati italiani e non solo. La Commissione europea risponde 1. La direttiva è stata adottata all'unanimità. 2. La remunerazione è già di per sé un'aderoga al diritto esclusivo degli autori sulle loro opere. 3. La direttiva non dice che la remunerazione debba essere a carico dei lettori o delle biblioteche, può anche essere a carico dello Stato. 4. La direttiva non verrà modificata, ma anzi, verrà fatta rispettare. E visto che l'Italia non fa sapere più niente, la Commissione la deferisce alla Corte di Giustizia! Piccola parentesi, nel 2005 per la Commissione europea solo i Paesi Bassi erano veramente in regola con la direttiva. 23 aprile 2005. Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Manifestazioni in Italia e Spagna a favore del prestito bibliotecario gratuito. La campagna italiana è sempre guidata dalla Biblioteca di Colonio Monzese con l'appoggio dell'Associazione Italiana Bibliotecari. 7 novembre 2005. Più di 53.000 firme del manifesto in favore del prestito gratuito vengono consegnate simbolicamente alle autorità di governo. 10 aprile 2006. Cambio di governo. 9 luglio 2006. L'Italia vince i mondiali. 21 ottobre 2006. Arriva la sentenza della Corte di Giustizia. La Commissione rimprovera alla Repubblica Italiana di aver esentato dall'obbligo di remunerazione tutte le istituzioni per il prestito pubblico. Tale esenzione eccede i limiti previsti dalla direttiva. Per questo motivo la Repubblica Italiana è condannata alle spese. A questo punto il rischio di pesanti sanzioni è estremamente concreto. E allora il nuovo governo decide di introdurre nella finanziaria un fondo di 3 milioni di euro per il diritto di prestito pubblico di tutte le biblioteche, escluse quelle universitarie e scolastiche. Il prestito bibliotecario finalmente è stato regolamentato, dice il Sindacato Nazionale degli Iscrittori, che aggiunge Dubbi d'esta sicuramente queste esclusioni delle biblioteche universitarie e delle scuole di ogni ordine e grado. Tale eccezione è in linea con la direttiva europea? Quella qui prevista ci appare ai nostri occhi eccessiva. Tutti d'accordo? Gli autori difendono la gratuità del prestito bibliotecario e sono contrari a norme o direttive che, monetizzando tale servizio, limitino l'accesso alla cultura. Gli autori e l'editore rinunciano a riscuotere eventuali royalties derivanti dal prestito bibliotecario di quest'opera. Questa è la dicitura che il collettivo bolognese Wuming introduce nei suoi libri dal 2004. All'opposto, in Colombia, nel 2005 la casa editrice Random House Mondadori, che pubblica il libro Memoria delle mie puttane tristi di Gabriel Garcia Marquez, contiene una dicitura che proibisce il noleggio o il prestito pubblico dell'opera. E scoppia la polemica. La casa editrice dice che la dicitura serve per adeguarsi alla direttiva, mentre Marquez si schiera dalla parte dei lettori. E dalla penisola iberica un premio Nobel si attiva per la campagna. José Saramago, insieme ad una lunga fila di colleghi scrittori. Ma in Italia anche il nostro premio Nobel è sceso in campo. Siamo nella logica del profitto a ogni costo. La cosa che subito ha cattivo odore è il fatto che hanno cercato naturalmente subito di coinvolgere gli autori dicendo lo facciamo per voi autori. È una delle azioni proprio mancanti di civiltà che proprio non ci si aspettava dall'Europa in questo momento. Che noi, per il fatto che i nostri libri si possono leggere gratuitamente nelle biblioteche, perdiamo acquirenti è una pura bugia. In realtà il prestito gratuito è già un compenso, molto più interessante di quei pochi spiccioli. Le biblioteche fanno conoscere i nostri libri, li promuovono, organizzano e sostengono gruppi di lettura, seminari, laboratori, conferenze, incontri, mostre. Le biblioteche permettono che i nostri libri rimangano in circolazione per anni quando nelle librerie, nel migliore dei casi, durano soltanto alcuni mesi. Tutte attività a nostro diretto vantaggio, oltre che dei nostri editori. Ma in questo modo il discorso sembra essere solo una questione di danno o beneficio, mentre si perde di vista l'aspetto più rilevante che è quello culturale. Le biblioteche sono nate per svolgere una funzione di raccoglitore di conoscenza e sono state fondamentali per lo sviluppo della nostra cultura. La grande conquista dovrebbe essere quella di dare a tutti i mezzi per accedere alla cultura e alla conoscenza, che è un diritto irrinunciabile di ogni individuo, lontano dall'essere applicato. Davvero vogliamo insistere sulla strada della mercificazione di ogni cosa? Introdurremo un giorno una legge per obbligare i figli a remunerare i genitori per avergli insegnato a camminare. Intanto a fine 2006 la direttiva 192 è abrogata. Vuoi vedere che a Bruxelles hanno finalmente capito? Ma che è? La direttiva del 92 è sostituita da un'altra praticamente identica, la 26115. E la Commissione inizia a prendere di mira anche i paesi scandinavi, che in precedenza erano stati presi a modello. E anche la Spagna, condannata dalla Corte di Giustizia insieme all'Italia, a fine marzo 2007 si mette in regola con la direttiva. E quali sono le reazioni? Questa mattina la Commissione di Cultura del Congresso ha dato via libre al Canon per prestamo bibliotecario. Se va a grabar con 20 centimos cada ejemplar che le biblioteche compren per posire a disposizione dei lettori. Osea che ora i titolari dei diretti d'autore van a cobrar due volte, per la vendita dei libri e per l'uso di quelli in bibliotecari. Cedro considera che questo è molto positivo per la defensa del diritto d'autore. Lo che si tratta è di abonare al autor una quantità per l'uso che si fa di dei libri in bibliotecari. Il Canon io credo che è beneficioso per le società di gestione di diretti, a tutti gli autori che venden molto, non le fa falta un Canon per il prestamo, perché già hanno risolta la vita economica con questo e i autori che venden poco van a desaparecere delle biblioteche con molta probabilità perché le biblioteche vanno a perdere il potere adquisitivo e non vanno a poter comprare i libri della gente che è meno conosciuta. Non ci ricordiamo che il dinero pubblico è il dinero dei cittadini. In fondo, se l'istituzione della che dipende la biblioteca ha di pagare per prestarvi questo libro, sta pagando l'usario. Gli spagnoli non si arrendono e lanciano una grande campagna di raccolta firme a livello europeo. L'obiettivo è quello di raggiungere un milione di firme entro il 23 aprile 2008. In Italia, la raccolta sarà gestita dalla biblioteca di Colonio Monzese e sul sito della campagna è possibile scaricare i formulari per le firme. C'è bisogno di tutti per difendere il diritto di accedere liberamente alla cultura. Ma immaginiamoci per un attimo che questa brutta direttiva venga finalmente cancellata. Visto che è essenziale incoraggiare nuovi autori perché senza autori non esistono i libri visto che è importante sostenere editori e librai perché permettono la trasmissione della cultura visto che è necessario in questo paese promuovere la sana abitudine della lettura visto che le biblioteche questo lo fanno tutti i giorni visto che il governo italiano ha comunque stabilito un fondo di 3 milioni di euro. Non sarebbe logico destinare quel fondo alle biblioteche per l'acquisto di nuovi libri. Se vuoi un bel romanzo di sogni e di draghi lo cerchi lo trovi e lo paghi se vai in biblioteca c'è libero accesso ma il libro lo paghi lo stesso c'è un foglio che spiega che cos'è il diritto quel libro qualcuno l'ha scritto è giusto così faccio una passeggiata che bella serata c'è un'aria incantata Ammiro una chiesa, una bella facciata e quella chi l'ha disegnata? Raccolgo un papavero e se è brevettato qualcuno deve essere pagato Ammiro un paesaggio, mi piace, mi appaga Mi volto, dov'è che si paga? Ma non c'è nessuno che stacca il biglietto Così torno a casa e mi butto sul letto Mi viene da piangere, dico lo accetto Son qui, pago io, pago tutto Il mondo è in affitto, li pagherò io I diritti d'autore di Dio C'è nessuno che stacca il biglietto